ASTON! Comincia il gioco! Chi c'è c'è, chi non c'è, non c'è! Si vince a mille punti! Il primo classificato vince un caro armato, vero? Per lavorare! Beato lui! Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quella che parlano là! All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto ASINO, qui, sulla schiena! Vi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano! Chi ha paura perde punti! Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen! Erstens, versuche nicht zu fliehen! Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen! Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erringen strafft! Ist das klar? In tre casi si perdono tutti i punti! Li perdono! Uno! Quelli che si mettono a piangere! Due! Quelli che vogliono vedere la mamma! Tre! Quelli che hanno fame e vogliono la merendina! Scordatevela! Er sollte glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen! Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt! È molto facile perdere punti per la fame! Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata! Großemkeit ist alles! Dal Bicocche! Und noch etwas! Lui di frangole! Bei diesem Piff! Alles raus auf den Ort, aber schnell! Ah! Non chiedete i lecca lecca perché non ve li danno! Ce li mangiamo tutti noi! Antretten in zwei aere! Io ieri non ho mangiato i venti! Schwein! Mal di pancia! Ihen morgen! Però erano buoni! Isapel! Lascia fare! So, das wollte ich noch sagen! Dort hinten werdet ihr arbeiten! Ihr werdet die dimension des lagers leicht begreifen! Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino! Ora vado, se non mi fanno sana! Scusate! No, no, no! Non mi chiedete niente! A me chiedete tutto Bartolomeo! Lui sa tutto! Vi dice tutto lui! Dopo me lo dice anche a me che ha detto! Mille punti! Te l'avevo detto! Chi si diverte!